C'è giunta voce qui in albergo, c'è l'ispettore in incognito dietro di lei. Sì, usiamo il cliente mistero. Il lavoro del rispettore in incognito comincia dall'ingresso in albergo. Il consierge ha parlato all'ospite guardandolo dritto negli occhi. Era un 5 stelle, un hotel fuori del comune, che deve offrire un'esperienza unica grazie a un servizio impeccabile. Però non hai una famiglia, non hai dei figli, un marito. Chi è che si prenderà pieno di lei? Loro. Très belle femme, elle. Perché non ce ne andiamo qui? Io ti vedo quell'estate in Brasile, eh? Alla fine dell'estate, lascio il bambino. Ma ti dico che mi preoccupo per te del fatto che non sei più una ragazzina e che stai da sola. Mi preoccupo. Real luxury is the pleasure of a real life, lived to the full and full of imperfection. There's no real life in here. Fidatevi del vostro istinto. Questo viaggio è il vostro. Stanno a scegliere come fare. Have a safe journey. Cristiano subito. Cristiano subito. Il vostro. Grazie a tutti.